Bentornati a questa nostra lezione su Gmail. Oggi vedremo come inserire un allegato, un'immagine oppure un link all'interno della nostra mail. Abbiamo visto come si creava una mail da zero, quindi cliccando sul pulsante Scrivi col più colorato posto qui a sinistra. Abbiamo scritto il destinatario, l'oggetto, abbiamo inserito il corpo della nostra mail. Adesso vogliamo capire come inserire un allegato. Per poter inserire un allegato dovremo cliccare su questa graffetta posta qui in basso. Cliccheremo una volta col tasto sinistro. A questo punto ci aprirà il nostro classico Explora file, all'interno del quale possiamo andare a scegliere un'immagine oppure un documento da allegare alla nostra mail. Nel caso in cui vorremmo inviare un documento come questo, cliccheremo sul documento e cliccheremo su Apri. Vedete a questo punto che qui sotto avremo il nostro allegato con una barra di caricamento. Quando sarà scomparsa quella barra blu e apparirà in questo modo l'allegato, vorrà dire che è allegato alla nostra mail. Vedete che infatti la graffetta è stata modificata, diventa un foglio con una graffetta e non più una graffetta singola. In questo caso abbiamo inserito un allegato. Potremmo inserire tanti altri allegati, ovviamente stando sempre all'interno delle dimensioni possibili di invio di un allegato. Questo significa che non potremo inviare più di 25 MB. In alternativa, se il nostro file supera i 25 MB, vedremo poi che potremo utilizzare o un link del drive di Google, oppure programmi come WeTransfer, ma li vedremo in un'altra lezione. In alternativa, possiamo inserire un'immagine all'interno proprio del testo, e quindi si vedrà all'interno del testo l'anteprima dell'immagine. Per farlo, cliccheremo su questa icona con scritto inserisci foto e con queste montagne. Clicchiamo. Ovviamente qui ci sono già delle immagini precaricate, ma altrimenti cliccheremo su carica, scegli foto da caricare, sceglieremo l'immagine che vorremmo caricare, gli diremo apri. Qui sotto possiamo scegliere o in linea o come allegato. Vedete che in linea l'immagine viene inserita all'interno del nostro mail, quindi la vedremo direttamente nella nostra mail. Possiamo scegliere se la vogliamo vedere in piccola, oppure con dimensioni predefinite o originali. Questo potremo sceglierlo. Quindi doppia possibilità, inserire l'immagine direttamente nel corpo della nostra mail, oppure come allegato. Inoltre, quando inviamo una mail, possiamo decidere anche di inserire un link. Quindi nel caso in cui volessimo inserire un link al nostro canale YouTube, inseriremo il link, e se non è già colorato di azzurro, quindi in automatico non l'ha già inserito, cliccheremo sulla scritta link. Quindi se apparirà così nero, dovremo evidenziarlo, cliccare su quest'icona inserisci link, e vedete che in automatico diventa un link cliccabile. Se fate un copy and colla, in realtà in automatico già vi inserisce il link. Se invece volete creare un link per una parola, allora dovrete cliccare direttamente sulla parola. questo è come inserire un allegato, un'immagine nel corpo del testo, e un link all'interno della nostra mail. Come vi dicevo, se il vostro allegato è molto pesante, potete cliccare sull'icona di drive, che è questo triangolino qui con questi trapezzi. Quindi cliccate qui, vedete che qui in fondo avete carica, quindi potete scegliere dal vostro computer, quindi seleziona file dal dispositivo, cliccate sul file, cliccate su apri, a questo punto vedete che qui sotto c'è il link del drive o allegato. Se noi clicchiamo sul link del drive, che è già selezionato, diciamo carica, caricherà questo file all'interno del nostro drive, nel nostro cloud di Google, quindi una cartella all'interno del drive, e inserirà il file come un collegamento del nostro drive cloud di Google. Così facendo non avremo problemi di spazio. A questo punto potremo inviare la nostra mail o programmare l'invio, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Se vi è piaciuta la lezione, cliccate su iscriviti al mio canale, cliccate mi piace e condividetela con i vostri amici. Ciao! Ciao!